Pinto ha detto una frase normalissima, anzi anche banale, ovvero non posso garantirvi che Zagnolo rimarrà alla Roma, poi però la frase l'hanno storpiata i giornali e sembra quasi che abbia detto, leggendo qualche pagina, Zagnolo andrà via, Zagnolo forse alla Juve, non so se rimane, no, no e no, ha detto che non può garantircelo, garantire, è un parolone e nel calcio è una parola da non usare mai, mai, mai e poi mai. Comunque, prima di parlarne, è molto molto importante, iscrivetevi e poi lasciate qui sotto un like e un commento, allora ve lo premetto, mi ha fatto schifo la stampa che ha cercato lo scandalo, anche lì dove comunque Pinto è rimasto impassibile e ha detto guardate, io comunque non ve lo garantisco, ma non è detto che va via, quindi comunque stampa, imbarazzante, Pinto, oggi un grande, a me non fa impazzire, però oggi veramente un grande, o meglio ieri, però la domanda fatta a Pinto è, signor Pinto, ci può garantire che Zagnolo rimane? Pinto dice no, né io né nessun altro può farlo, può garantirtelo, ovviamente, perché uno, nel calcio nulla è certo, il calcio è imprevedibilissimo e il mercato ancora di più, e poi due, ci sono tante incognite, per esempio la Champions, la Champions ragazzi, la Roma non dovrebbe sulla carta arrivarci, è difficilissimo, però ammetti che ci arriviamo, cambia tutto, poi, non so, Murigno rimane? Quasi sicuramente sì, ma non è certo, e ovviamente anche lì, altra incognita, Zagnolo, come rende da oggi a maggio? Bene, male, così e così, anche quello è importante, adesso manca troppo, troppo tempo per dire se andrà via o se rimarrà, a meno che ovviamente non ci sia già un'offerta accettata, è prestissimo, e fare domande così per me è assurdo, ed è una domanda fatta soltanto per cercare lo scandalo, lo scalpore nella Roma, Pinto è rimasto inflessibile e ha detto io non te lo posso garantire, però non è che ha detto va via, anche perché la Roma sta trattando per rinnovare il contratto, comunque simbolo che Pinto punta su Zagnolo e che vuole che rimanga a Roma, anche io lo voglio, eh, occhio ragazzi, comunque Zagnolo per me è un grande patrimonio, poi certo, se arriva una grande offerta irrinunciabile? Io dico di sì, però possibilmente dall'estero, Tottenham, PSG, per esempio il Tottenham di Paratici, grande fan di Zagnolo, è interessato, la Juve pure purtroppo, anche la Juventus ragazzi, ecco, io alla Juve preferirei di no, anche perché la Juve ha sempre questa tecnica, Pjanic, Higuain, due su tutti, Vlaovic, prendi la tecnica Bayern di fatto, prendi i talenti degli altri, l'indebolici e ti rinforzi allo stesso tempo, ed è una tecnica vincente, che il Bayern comunque applica in Germania da anni, poi certo ragazzi, noi non è che siamo avversari diretti della Juve, però siamo là, anche quest'anno, la differenza non è grandissima, ecco, dare al loro Zagnolo sarebbe una grande perdita per noi e un grande affare per loro, poi certo, alle cifre giuste, io vi ripeto, se arrivano 80 milioni, io dico a malincuore, mi dispiace, ma vai, però dipende tanto da come rende da oggi a giugno, dipende comunque da lui se vuole rimanere o no, dipende da tante cose, ora, dire se rimane o no per me è assurdo e grande Pinto, vi ripeto, grande Pinto, che ha detto ai giornalisti, guarda, io non lo so, così non possono scrivere nulla, non possono improvvisare o comunque non possono farlo avendo qualcosa di concreto, perché l'hanno fatto, però hanno inventato, perché Pinto, no, gli ha detto, non so se rimane, Pinto gli ha detto, non te lo assicuro, è diverso, è diverso, ragazzi, comunque, i giornali si sono inventati, hanno messo in bocca a Pinto parole che lui non ha mai detto e sono contento, perché comunque stanno facendo una figura imbarazzante a livello anche europeo di giornalisti che cercano solo di vendere qualche cosa in più mettendo in bocca a un DS cose che lui non ha mai e poi mai detto, comunque, Pinto quindi si difende così, la Roma proverà a rinnovare a Zagnolo, speriamo, non alla Juventus, anche perché sarebbe un bel colpo al cuore, però se arriva il PSG, non so, per il dopo un Bappé e arrivano 80 milioni, mi dispiace Nico, però io ti cederei, comunque, vi stavo dicendo, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, lasciate anche un bel pollice in su e commentate pure con cosa voi fareste con Zagnolo e che cosa e con cosa ne pensate riguardo a questo scandalo giornalistico, mi raccomando, che è molto molto importante, ci vediamo o dopo o domani, ciao ciao!